Qui da noi è un marchio relativo ad un ricco paniere di prodotti agroalimentari dell'Emilia Romagna ideato da FedAgricov Cooperative per favorire un rapporto privilegiato tra il sistema produttivo cooperativo e di consumatori garantendo prezzi equi, sicurezza alimentare e qualità delle produzioni ottenute seguendo rigidi disciplinari nel pieno rispetto dei valori della cooperazione. Questo paniere di prodotti è stato presentato a Faenza nel corso di Enologica 2011, il salone del vino del prodotto tipico, presenti tra gli altri Tiberio Rabboni, assessore regionale all'agricoltura, Marco Venturelli, direttore regionale Conf Cooperative, Francesco Carugati, presidente Faenza Fiere e Giorgio Melande, curatore di Enologica. Qui da noi è un progetto che vuole esaltare le produzioni tipiche delle nostre cooperative agroalimentari e quindi dare certezza ai consumatori. Oggi è fondamentale qualità, territorialità, tradizione, i valori cooperativi di solidarietà perché comunque la cooperazione e questi prodotti sono il frutto di produttori che si mettono assieme per ottenere una migliore qualità all'interno di disciplinare delle produzioni di questo territorio italiano e regionale in questo caso. È una crescita che si sta riempiendo di soddisfazione. Vediamo che le persone, i partner che stiamo coinvolgendo, si stanno lasciando coinvolgere sempre con maggiore entusiasmo e facilità. Questo vuol dire che il percorso che stiamo seguendo, di fare su Faenza, un evento di ricerca e della qualità del prodotto enogastronomico è un qualche cosa che sta riuscendo e sta riscuotendo ampio successo e riscontro da parte sia dell'espositore ma anche del pubblico. Qualità, prodotti unici e ripetibili, l'Europa se ne deve accorgere, ci deve dare una mano a essere più forti con questa qualità, con questi prodotti unici e ripetibili sui mercati mondiali. Durante la tre giorni faentina di Enologica, il paniere di prodotti qui da noi è stato utilizzato e apprezzato dai 20 chef blasonati che nel teatro dei cuochi hanno dato vita in diretta a squisite ed originali creazioni culinarie, un mix di tradizione e innovazione. Notevole il successo di Enologica di quest'anno, che ha riunito 138 cantine da Piacenza a Rimini con 50 eventi, grandi cuochi, vignaioli, sommelier, esperti, artigiani appassionati del vino e del prodotto tipico.